Ciao a tutti da The Beach Doctor, soluzione del Radio Quiz di domenica 19 novembre. Come primo caso vi presentavo queste due immagini TC, questa è una ricostruzione coronale e questa è invece l'immagine assiale originaria, dell'orecchio medio di destra di un paziente. E vi chiedevo, queste sono tutte vere, scrivevo tranne una. Vediamo prima le immagini e cerchiamo di capirle. Si vedeva questo tessuto ipodenso, che è questo qui che vi sto delimitando con le freccette, che è questo qui. Cercando di capire un po' dove ci troviamo, diamo delle informazioni. Di solito in questa sede dovremmo riconoscere la membrana timpanica, che dovremmo vederla letteralmente come un filo sottilissimo, a tratti anche scarsamente visualizzabile. Qui dovrebbe decorrere da questo punto dove mi trovo ora in qui, quindi con un decorso che va verso l'interno dall'alto al basso, e qui invece decorre grossomodo anche in questo caso con un andamento che dal davanti, perché la parte sopra è il davanti, vi ricordo, del volto, dal davanti al dietro va verso l'interno. E ovviamente qui la membrana timpanica non la vediamo perché è completamente coinvolta da questa massa. Dovremmo riconoscere in ambo le proiezioni a questo livello la catena ossiculare, qui sotto vi ho riportato un esame normale per darvi un'idea, quindi vedete questa è la membrana timpanica, qui siamo nella proiezione assiale, vedete che è sottilissima, si fa fatica a vederla, e in adesione alla membrana timpanica iniziamo a vedere la catena ossiculare, quindi il martello, l'incudine, e tra martello e incudine da una parte, limitata da martello e incudine da una parte, dal muro della loggetta cosiddetto, che è il punto dove la porzione ossea si appuntisce appunto, e delimitata inferiormente dalla membrana timpanica, troviamo un recesso, uno spazio virtuale che dovrebbe essere vuoto, che si chiama tasca del prussac. Quando vedete del tessuto a livello della tasca del prussac, la prima diagnosi da pensare è quella di colesteatoma, peraltro i colesteatomi usualmente esordiscono proprio in prossimità alla membrana timpanica e allo spazio del prussac, vanno poi a invadere la catena ossiculare, in questo caso abbiamo anche uno sviluppo nell'epitimpano, cioè nella parte superiore della cavità timpanica. Ok? Quindi, andando a vedere le nostre cose, vi ho già risposto, perché ho detto che tra le diagnosi di Ferenferi c'è il colesteatoma, è sicuramente la prima cosa a cui pensare. C'è interessamento alla catena ossiculare? Sì, perché vedete che questo è un rimasuglio di catena ossiculare, e facciamo proprio fatica a vederlo, ok? Ecco, è coinvolto qua sopra, qui dentro poi invece la catena ossiculare è completamente mangiata, questo è quello che dovrebbe essere il muro della loggetta, però purtroppo non lo vediamo. E è occupata la tasca del prussac? Sì, perché abbiamo detto appunto che è questo spazio virtuale, che non vediamo. Questa qui è la coclea, che sembra un po' il bambino dell'unicef, io dico sempre per ricordarmelo, perché gli vedete la testa e le braccina che abbracciano, che in realtà rappresentano i giri della coclea, no? È assolutamente usuale e normale che l'osso intorno alla coclea sia più iperdenso rispetto al restante osso che vedete nelle immagini. Questo è assolutamente standard, per cui non c'è reazione periostale pericocleare in questo caso. Andiamo al successivo quiz. Vi mettevo questa immagine, secca e vi chiedevo la diagnosi. Allora, andiamo un attimo a capire. Intanto la frattura di second, no, vi ricordo che è una frattura che ha associato quasi sempre un danno del legamento crociato anteriore, ed è però, di solito la troviamo molto più bassa, perché è all'inserzione dei legamenti, e peraltro la troviamo nella parte interna, di solito, non nella parte esterna. Qui alto, questo qui, è una malattia di pellegrini stieda. Mi faccio aiutare da radiopiglia, da cui ho preso il caso, poi vi lascio comunque il link nelle descrizioni, e praticamente vedete che, come indicato, è un'ossificazione post-traumatica che corrisponde a dove il legamento collaterale mediale del ginocchio, infatti vediamo nel comparto mediale, si inserisce a livello del condilo femorale corrispondente. Perché si forma questa calcificazione? Intanto questa è una cosa cronica, ricordatevi, cioè non rappresenta mai una lesione in acuto. È una lesione in cronico perché si suppone che qui ci sia un ripetuto traumatismo che può anche evolvere in un traumatismo acuto a carico dell'inserzione del legamento collaterale mediale, che fa sì che ci sia un distacco da avulsione. Quindi si stacca una piccola lamella ossea femorale e poi c'è una reazione di riparazione esagerata, una reazione ostoblastica eccessiva, dovuta al fatto che continuiamo a sollecitare questa zona come carico, continuiamo a sollecitare il legamento collaterale mediale. E il risultato è che vediamo questa calcificazione piuttosto grossolana corticalizzata nei tessuti mogli a livello dell'epicondilo. Quindi la diagnosi era questa. L'Osgood-Schlatter di solito la riconosciamo nella proiezione laterale, oltretutto, e sono delle calcificazioni a livello dell'apofisi tibiale, quindi anche queste più in basso, cioè in tutt'altra zona. Terzo caso. Vi presentavo due immagini epografiche prese in corso di studio testicolare e vi chiedevo cosa possiamo affermare. Allora, io per ingannarvi oltretutto ho ben indicato con la freccia il nodulo che in realtà non è assolutamente sospetto. Questa è unidatide di Morgani. È un residuo embrionale che vediamo in una discreta percentuale di popolazione maschile. Ovviamente lo vediamo se c'è idrocele, perché l'idrocele mi rende molto più evidenti i profili testicolari e quindi rende anche visibile l'idatide. In questo caso l'idrocele c'è perché tutto questo aspetto aneicogeno che vedete è liquido che circonda il testicolo e quindi diventa visibile questo rimasuglio, questa idatide. L'ecostruttura testicolare è abbastanza omogenea, abbastanza normale che sia così, non vediamo delle zone francamente ipoecogene, quindi in realtà l'unica vera in questo caso era che c'è idrocele. Tutte le altre erano false. Il varicocele non c'è perché dovremmo vedere proprio dei vasi venosi, peritesticolari, tortuosi, ectasici, con calibro superiore a 3 mm, quindi niente del genere perché intorno al profilo testicolare non vediamo nulla di strano. Ultimo caso che vi presentavo era questa RX piede, sottocarico in proiezione laterale, paziente che è un bambino perché vediamo la metafisi tibiale che si deve ancora saldare, la metafisi calcaneare che si deve ancora saldare, e vi chiedevo di porre diagnosi. Allora, non c'è il piede piatto? Come facciamo a stabilire se c'è il piede piatto? Con l'esperienza poi si fa tra virgolette a occhio. Se vogliamo una misura affidabile, una di queste ad esempio è l'angolo di Costa Bartania o Bertania, a seconda di dove lo cercate in letteratura, che è l'angolo che praticamente si forma qui, andando a tirare una linea verso la porzione caudale dell'apofisi calcaneare e verso la porzione caudale della testa metatarsale, di solito quello che vedete qua è il secondo metatarso, e l'angolo ha valori normali che raggiungono i 120-125 gradi. Al di sopra iniziamo a parlare di piattismo. Ma qua a occhio non abbiamo misure, a occhio non c'è piattismo. La frattura dell'amante è quella frattura dovuta a traumi in carico sul piede, quindi salto dall'alto, che si chiama così proprio perché l'amante saltava fuori dalla finestra e precipitava sui piedi, che è una frattura però di solito plurifragmentaria del calcaneo. Allora, se qualcuno poteva essere venuto del dubbio era qua, però è strano che ci sia solo qui la frattura. Peraltro, come vi ho detto, essendoci la metafisi tibiale, questa qui la dobbiamo interpretare come metafisi, i più attenti di voi si saranno accolti però che il calcaneo è decisamente molto più radiopaco del normale e al suo interno c'è sicuramente una rima radiotrasparente qua e molto probabilmente un'altra anche qui. Questa è la apofisite calcaneare o malattia di sever, che è dovuta a, anche in questo caso, microtraumatismi ripetuti, quindi tipicamente la troviamo magari in ragazzini che giocano a basket. La diagnosi è una diagnosi tendenzialmente clinica, però poi noi la possiamo confermare e corroborare con l'RX perché vediamo questo aspetto francamente radiopaco dell'apofisi calcaneare proprio dovuto al fatto che abbiamo, a seguito di questi microtraumatismi, un eccesso di reazione osteoblastica che porta alla presenza magari di microfratture come le due che vi ho indicato. E con questo abbiamo visto i quiz di questa domenica, ci vediamo al prossimo video.